Mi senti? Sono la tua pelle secca. Aiutami, ho bisogno di qualcosa che mi manca. Il nutrimento di CeraVe. Una formula a rilascio continuo con tre ceramidi che ripara e protegge. Idrata fino a 48 ore la barriera naturale della pelle senza ungere. CeraVe, quello di cui ho bisogno. Chiedi informazioni al tuo dermatologo.